ma com'è per la misura? non so com'è l'ho parlato tu io stavo giocando ora ma questo chiamano questo chiamano è d'acciaio questo direi che ferro direi che ferro eh abitrovo ora vi dà la partita abitrovo dodo si tre tre come deve andare per scorsa vai si vedi se si può fare la saldatura eh consegna questo si può saldare io non ci devo fare ma non ci si si sicuramente si può saldare bene così ehm così inizio adesso scende ciao ragazzi ciao 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 Marco ciao ciao becca se vuoi becca se vuoi è tirato è tirato ciao 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 let's go ciao 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 E poi ha toccato il tuo, poi ha finito lui. Questo è quello che è uscito da fuori gioco? Sì, ha la stessa decetta. Quanto sei capace? Ma vuoi un altro altro? Ecco. Ma c'è fuori gioco che era? No. Neanche ora, però no. Via tua. Sì. Non so, c'è il quattro tre alla fine. Qui vedrà il Germano. Dunque. Dunque! Cosa? Cosa?